A un anno dalla COP21 stiamo vedendo quanto è importante dare piena attuazione all'Accordo di Parigi. Gli ultimi dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale ci dicono che è stato superato ancora un record di concentrazione della CO2 in atmosfera e cioè che il riscaldamento globale sta ancora aumentando e quindi dobbiamo accelerare nelle politiche di decarbonizzazione, nella riconversione dell'economia in modo da avere un'economia a bassissimo impatto di carbonio. A un anno dall'Accordo di Parigi l'Accordo di Parigi è ancora più importante ed è ancora più decisivo per tutte le economie riuscire ad essere all'altezza di quell'impegno e arrivare a zero emissioni in ente di carbonio al 2050.